Lei ieri è stato a Roma, ha visto tra gli altri, abbiamo sicuramente Toninelli, avete parlato di Porto, Metropolitana. Devo dire che ho avuto molti incontri a Roma, davvero molto fitti in 24 ore. Diversi ministri, diversi sottosegretari, diverse personalità istituzionali, diversi parlamentari, persone della politica. Sono molto contento di questa trasferta romana di 24 ore. Abbiamo davvero molti incontri fondamentali per la città, quindi con risultati concreti importanti e anche ragionamenti politici per quanto riguarda una serie di questioni che attengono alla politica e alle istituzioni. Sono molto contento perché si portano a casa risultati concreti, alcuni immediati, altri li costruiremo nei prossimi giorni. Si conferma la forza e la credibilità istituzionale di Napoli e del suo laboratorio politico e siamo affidabili nella leale cooperazione istituzionale. Io mantengo una certa riservatezza sugli incontri perché ho capito che siccome stiamo portando a casa dei risultati straordinari, se solo rendi pubblico uno dei vari accordi che stiamo per chiudere, immediatamente si mettono all'opera i nemici della cooperazione istituzionale e quelli che fanno il rispetto a prescindere. Vedo che il Ministro Toninelli, avendo reso pubblico quell'incontro, mi consente almeno di poter parlare con tranquillità di quello di cui abbiamo discusso e in quel caso non ci sono ragioni di riservatezza particolari. Molto bene su Metropolitana, sia Treni che Linea 1 e Linea 6, poi si faranno i tavoli tecnici sui vari punti nelle prossime settimane. Bene Porto, Molo San Vincenzo, bene Porto e Molo San Vincenzo, bene anche il tema delle infrastrutture nella nostra città, piano strategico ed altro e poi per la prima volta abbiamo trovato un'attenzione politica sul tema della tangenziale, la concessione, la ricaduta negli investimenti nella nostra città per quello che pagano i napoletani con il pedaggio, quindi insomma molto bene anche l'incontro al MIT, il Ministro delle Infrastrutture, insomma stiamo cercando di creare le condizioni perché al più presto si possano chiudere le varie stazioni, quindi aprirle al territorio e soprattutto avere al più presto i treni della metro, si sta facendo la corsa contro il tempo, insomma il nostro obiettivo è portare il primo treno della metro a gennaio 2020, poi un treno ogni mese, sono 12 i primi treni, arrivare a fine 2020 con i 12 treni funzionanti, quindi un treno ogni 4-5 minuti, come ho detto al Ministro Toninelli questa è la rivoluzione copernicana della mobilità della capitale del mezzogiorno e credo che il Ministro e il Ministero daranno il loro contributo perché ogni tempo tecnico, ogni procedura amministrativa, ogni momento burocratico possa essere accelerato quanto più è possibile.